Ciao amici, mi raccomando, questa è una piccola anteprima. Cercate di guardare tutto il video, perché dico cose veramente importanti per me, e però c'è un primo pezzo fatto sul lungomare, che tra l'altro quindi merita, perché veramente è un ambiente che sempre di più diventa bello qua, io non lo so. È come se fosse qualcuno che sta crescendo bene, diventa sempre più bella con l'Aleco comunque, ogni giorno. E però si sente un vento pazzesco, perché oggi, nonostante il caldo mortal, anzi per fortuna, c'è un vento pazzesco, altrimenti questo caldo sarebbe insostenibile. Quindi vi chiedo di sopportare i primi secondi in cui c'è un vento che un pochino si sovrappone alla mia voce, dopo meno, e vi dico un sacco di cose interessanti. Ciao a tutti amici da Quest'Isola, meravigliosa Forteventura, e da questa cittadina di Forteventura, meravigliosa, che accorre all'Eco, nonostante abbia anche tanti aspetti strani, nonostante se ne spargli molto, cittadina che io adoro. Oggi varie cose in un video, una confusione, una notizia bomba, e uno scorcio meraviglioso dell'Ecapa. Partiamo con la confusione. Oggi è venerdì, mi è un giorno di inverno, perché è tanto meraviglioso, è una mattina alle 10 che sto in giro con Juanino, che sono quasi le 6 di pomeriggio, e mi è aspettante che io vado a vedere. Cioè a me anche ho visto forticine, così, questo abbonetto, qua c'è mangiato anche delle tapas, poi uno sarà l'altro, sai, tre anni con loro, ma guarda un po', è tutto spargato qua, non si toglie via. La confusione è che, in realtà, soprattutto nei miei giorni liberi, quando non è tutto preso dal lavoro, 8-9 euro al giorno, sinceramente, stiamo iniziando ad avvertire una mancanza di vita che è folle, ma che è tutto qui, è una vita. Cioè, ma quanto può essere poi di quando sono al mare da questa finestrella? Dopo la confusione, vi lascio a, sì, a un incanto di scene, sono scene che continuamente, vedi, qua corre l'Eco, è bellissima per questo, perché tante persone dicano, penso anche al simpatico L'Ambrenedetto, perché poi a me sta anche simpatico, ma che veramente dice, ah, che brutta corre l'Eco, io penso che non l'abbiamo mai vissuto abbastanza, perché è una cittadina che ti sorprende sempre. Ecco, guardate che delizia, come si sta a bolletto, anche oggi, come sempre. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. C'è troppo carino questo stile blues di fare questa canzone, grandi, bravissimi. Bravi! Grazie! Grazie! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!